Si spera Ora si è riposata per bene la bimba E ora aspettate Si è riposata Insomma le nostre cannine però Insomma mi dai La 360 La piega Vai Dovrebbe quasi averla avuta Ecco la pancitona Ecco la libera Eccola qua una bella ricinetta Foto per Instagram Per questa pancitona Non alza la pinna No 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 Abon Guarda la cosa No No Vai Sì Ascian Vai E si va a dare la libertà Anche a questa bimbona Dentro alle palline Matteo Infatti Alle sfere del drago Che carpe sono No No quella di prima lo faceva Eccola qui La liberiamo subito E la che se ne arriva nelle acque limpide dei laghi rosario Allora vediamo la modifica che abbiamo fatto alla montatura E' la prima volta che ci pesco Giustamente Sto facendo il giro di 360 gradi Fatto bene Mutuandola dallo specialist Ora si è un po' spostato il tungsteno La montatura è molto simile a quelle precedenti Quindi Method Feeder di Michael Non della Presto Né di Michael che mi ha prestato Sgancio rapido Un finale sui 15-20 cm E quella di freno A parte gli ami E' vera Sta fermo Scusi Scusi Gli ami prototipo Abbiamo messo un doppio chicco di mais fake Con uno stopperino In questo caso di plastica Perché tutta plastica Ci sta la nature E' un pezzettino di tungsteno Che ci fa staccare l'esca dal fondo Di pochi centimetri La fa sollevare Per ora ha funzionato E anche subito Si Lo riproviamo E speriamo che non sia una carpa di passaggio Ma che magari gli abbiamo trovato il terzo Vai bimbi Ma guarda No io dovevo ripendere E' la mia canna Io me lo riprenderò E' la mia canna E' la mia canna Arriva lui Prendi in mano a lui La mia canna E' la sensazione di Gli pettire un po' E' la mia canna E' la mia canna E' la mia canna E' la mia canna Guarda La pesca da spinnerista canna basso Sembrirebbe anche una bella taglia No No Sono un diavolato Si E poi quando arrivano qua sotto Diventano Dicevano di stare attenti Che c'è delle radici Sotto Ecco potazzi Perché girano tanto sul sotto Poi mi diceva, non lo so, eh. La sbetta. Poi quando arrivano qua diventano veramente ostiche. Dai, questa è lunga. Io l'ho lasciata perché io vengo male. La foto però sì. Eccoci qua, io vi lascio con Veronica per le foto di Vito. Uuuuh, cupidi. Uuuuh. Però dai, l'abilità nel cacciarla fuori dal lago ce l'ha messa. Una bellissima regina ragazzi, bella bella. Dopo ci fai vedere anche la montatura. Quella l'ho fatta io, eh. La bellissima montatura che ha permesso al tuo padre di fare la cattura. Non riesco, ecco. Aspetta, girala un po' più verso di te perché me la stai dando. Fa ombra, ecco, perfetto. Guarda, questo fanciullo ci sta rilasciando una splendida cattura qua davanti. Ma te ne fanno anche tu. Dopo la riprende questa. Oddio, adesso. No, non c'è lì. Che pasturata, Marten. E se ne arriva? Stando su, ragazzi, l'invelo simile per riuscire a scappare. Montatura, intanto... Tanto io le spengo qua, ma due avevo già spenti. Classica montatura. Metod con... Si deve vergognare. Aia. Con... Metod Preston, quick change e... Cioè... Sgancio rapido, in po' parole e... Oh, stiamo pescando tutti uguali, eh? Amo, senza ardiglione con... Mi diceva tuo padre che vi siete messi un po' più vicini questa volta. Si, perché ha visto bollare e allora ha lanciato sopra. Oggi sembra più una pesca quasi di ricerca, perché comunque... Catture sulle zone pasturate, sì, qualcosa, ma principalmente sembrano... Matteo avvisa! Sembrano più sporadiche, ecco. Detto questo, torniamo in pesca con il nostro pescatore dei sogni che... Per ora ci ha raccontato favole. Allora, hai messo giù a car fishing, così vediamo un pochino una montatura un po' più diversa. Un po' più diversa. Sì, in realtà è piombo semplicissimo, con degli stopperini e... Facciamo la classica, proprio quella base, base, diretta. Sì, sì. Lasciata lì, quando parte, parte. Esatto, intanto fai un'altra pesca e... Ma è sotto l'iva? Lì. Eh, sulla curva? Sì. Sul lanza. Prima c'era uno che pescava, allora pasturava e se n'è andato. E ti ha approfittato della pastura. Guardino preso, carpettola di una bella taglia. Questo è più potente, eh? Sì. Come sei di finale? 35? Eh, no, no. Io ci provo a guadinarla con questo qui, eh, però... Sì. Finale 25. L'ensamata è 30. là. Ora però ti devo passare subito... Ah, no, guarda che ce la faccio. eccoci qua per la consueta foto qui di Instagram. Carpetta, carpotta, carpona, slavata. Ah, no, vai. Per giù te la carpa. Vai. È la carpa che prende me. Michael dietro. Vai. Foto per Instagram. Non mi stai mica facendo le cose? No. Doppie. Quindi sono quattro, ci puoi stare, dai. Vai. Carpetola fotografata. E pronti per la libertà. Bene. Allora. Oh. Vado allo scivolo, eh. Vai. Allora, sfruttiamo lo scivolo che è bagnato perché sto facendo tutto con la mano. La... No, signorina, la parte che devo uscire... Grazie, Michael. Eh, c'è da? No, è slamata. Eh, si aspetta. Tutto vento. La voce è zoomata. Tempi di attesa. methods. No, vamos. Chicos действio, ho messo la musiquetta d'attesa. Devo tagliar. Vai. Oh, vado che bello! E questa splendida carpona riprende la via del lago mentre Michael mi prende a busta. Vai. spendiamo l'acqua e rimettiamoci in pezzo oh, uno, due e tre, andiamo grazie a tutti